Anche quest'anno ci troviamo a celebrare la poco gradevole ricorrenza dell'Earth Overshot Day. Da oggi a fine anno ciò che consumeremo, energia, acqua, cibo, genererà un debito che i nostri figli saranno chiamati prima o poi a pagare, un debito pesante del quale solo pochi sembrano preoccuparsi. E' questo il giudizio del WWF di Parma nel giorno in cui, secondo gli scienziati, l'umanità finisce di consumare le risorse che la Terra è in grado di fornire in un anno. In realtà qualche cambiare sta già scadendo, dice il WWF. Questa estate, che molti banalizzando definiscono pazza, insieme alle molte altre anomalie meteoclimatiche degli ultimi anni, altro non è che una conseguenza dei mutamenti dovuti al riscaldamento globale generato dalle attività umane. Proprio nei giorni scorsi alcune indagini condotte da varie associazioni di categoria cercavano di quantificare le perdite economiche dovuto all'insolito andamento meteo degli ultimi mesi e si parlava di centinaia di milioni di euro. Se aggiungiamo i danni dovuti ai sempre più frequenti eventi estremi, come alluvioni e trombe d'aria, ci spostiamo nell'ordine di grandezza dei miliardi. Per non parlare, chiude il WWF, delle implicazioni umane e sociali. Sul punto interviene anche il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Fabrizio Savani. «È una situazione che pesa sull'ambiente, dice, sulla qualità dell'aria e sui cittadini. Intanto il dogma è produrre meno e riciclare di più, così ci saranno meno rifiuti da bruciare. Poi incentivare l'uso del bike sharing, del car sharing e dei mezzi pubblici porterebbe cambiamenti significativi sulla riduzione dell'inquinamento. Infine, un'ultima proposta di Savani, imporre una riduzione della velocità a 100 km orari sulle autostrade nei pressi delle città.